Buonasera, vediamo un po' chi si presenta oggi per questa diretta che ricordo è sul canale Facebook Il Mistero della Vita, Focus 3.0. Intanto ringrazio sempre Enrico Ballantini e Anna Maria Torre che mi hanno sempre supportato e aiutato in queste dirette. Ora la diretta di oggi si intitola Scienziate invisibili questo è un titolo un po' particolare che abbiamo scelto insieme ad Anna perché entrambe crediamo che sia importante capire alcuni fenomeni che si sono sviluppati durante la storia umana e che non sono mai stati indagati molto attentamente Intanto vi invito a darmi contezza della vostra presenza perché così sono tranquilla che mi vedete che siete tutti a posto e che si può cominciare il discorso sulle scienziate. Di solito la parola scienziato è declinato al maschile ma io l'ho voluta fare ecco Anna, ciao, grazie, tutto a posto, grazie mille. Di solito appunto la parola scienziato viene declinato al maschile perché siamo abituati a conoscere e ad apprezzare solo gli scienziati maschi Ora mi preme farvi una premessa molto importante questo nostro escursus che affronteremo e attraverseremo come nostro solito i millenni perché lo sapete che a me piace cominciare dalle più antiche età e arrivare fino ai giorni nostri ma quello che mi preme dire è questo assolutamente fuori da me proprio mi è strano il pensiero di una rivendicazione di potere delle donne assolutamente no quello che mi preme far arrivare a tutti è questo messaggio che l'umanità è stata così stupida ma così stupida da aver praticamente legato dietro la schiena una mano e avere lavorato nella storia solo con una mano come se fosse monca questa amputazione che l'umanità si è autoindotta si chiama potere di dominazione questa è un'assoluta idiozia umana che ci siamo portati dietro voi pensate all'assurdo noi l'umanità è in tutt'uno è come il nostro corpo però dotato di un arto destro e di un arto sinistro ora pensate alla follia di aver preso il lato destro maschile e di averlo fatto lavorare e quello sinistro femminile averlo tenuto legato a doppia mandata dietro la schiena senza poter quindi lavorare bene lavorando sempre molto male o se facciamo l'esempio con gli arti inferiori l'umanità come ho detto sempre nei miei libri ha zoppicato moltissimo proprio per la mancanza dell'altra parte dell'altra gamba il perché questa gamba o questo braccio sia stato bloccato è diciamo così una riflessione che mi piace sempre molto fare e quindi oggi andiamo a riscoprire quel lato sinistro ovvero quel lato occultato quella sapienza occultata che appartiene alle donne voi pensate la follia di avere due mani e che la mano destra picchia in continuazione la mano sinistra e non vuole farsi aiutare non vuole che la sinistra lavori che la sinistra capisca che la sinistra apporti la propria conoscenza e quindi crei una possibilità di evoluzione maggiore all'umanità questa è un'assurda idiozia che però purtroppo abbiamo ereditato dal nostro passato e che ancora adesso perdura voi pensate che in questi giorni credo oggi o ieri Erdogan tutti lo sapete ha fatto quella bruttissima figura lasciando in piedi la rappresentante donna del Comitato Europeo che poi alla fine lei poveretta si è dovuta sedere su un divano alato diciamo delle due poltrone che invece occupavano gli uomini i dominatori i dominanti quindi questo esempio per farvi capire come siamo ben lontani ancora dall'aver capito che la nostra umanità verrà sempre come dire non riuscirà mai a evolvere fino a che non capiremo questo punto sostanziale perché? perché l'intelligenza come le capacità sono state dalla natura distribuite in modo equo in modo assolutamente uguale quindi abbiamo perso tutte le Leonardo da Vinci abbiamo perso tutti gli Einstein donna abbiamo perso tutti gli scienziati e le meraviglie della mente umana che si sono incarnate in corpi femminili comunque andremo a riscoprire a ripescare diciamo buonasera Lisa buonasera Francesca grazie Luciana ciao Daniela ciao Roberto bene allora benvenuti a tutti naturalmente poi naturalmente nella diretta ogni tanto guarderò le vostre domande quindi cerco di rispondere ciao Remo ciao e quindi mi preme far capire questa cosa cioè che davvero l'umanità è stata stupida come diceva Einstein l'unica idea di infinito è l'universo e la stupidità umana sulla stupidità umana non ho dubbi sull'universo nutro qualche dubbio quindi è veramente infinita la stupidità umana e questa non è la dimostrazione allora andiamo a cominciare la nostra storia antica allora per avere nozioni certe di una donna che fosse una scienziata nell'accezione di oggi cioè una persona che si occupa di scienze o di scienze matematico di scienze medico di scienze naturali comunque che abbia un approccio scientifico al proprio sapere dobbiamo arrivare in Grecia al primo secolo avanti Cristo dove troviamo un stranissimo personaggio che si chiamava Elefantide già questo nome è molto particolare ma pare che lei appartenesse a un gruppo di persone che per non farsi riconoscere prendeva nomi di animali comunque questa Elefantide fu molto famosa al suo tempo perché perché era un medico era un bravissimo medico curava soprattutto le donne e questa era una ginecologa antelitteram cioè era una donna che aiutava le altre donne a partorire aiutava le altre donne ad avere una sessualità positiva e di questa medichessa di questa donna medicina non abbiamo nessun reperto originale abbiamo solo i racconti che gli uomini facevano su di lei soprattutto Plinio il vecchio poi Galeno Galeno ovviamente come medico quindi questa Elefantide scrisse molti poemi oltre a essere un medico era anche una poetessa e anche probabilmente una pittrice perché di lei si raccontava che avesse fatto dei figuri buscoitus cioè fosse stata la prima a raffigurare le varie posizioni del coito cioè delle varie posizioni sessuali che la coppia può prendere durante l'accoppiamento e queste figurine pare siano state poi molto in voga una specie di Kamasutra dell'epoca una specie di viatico del buon sesso e queste figure fossero talmente famose che probabilmente anche nei famosi lupanari di Pompei eccetera vediamo queste raffigurazioni delle varie posizioni eccetera e probabilmente la prima a fare un manuale diciamo tantrico di sessualità fu proprio Elefantide quindi di lei si sanno solo ciò che è stato riportato dagli altri storici e poi arriviamo alla star delle star ai pazzi ai pazzi so che è molto amata e molto conosciuta grazie a quel famoso film che nel 2009 che si chiamava Agora questo è il titolo del film che se non l'avete visto vi invito caldamente a guardare perché è un film molto bello fatto molto bene e racconta davvero la storia di questa straordinaria donna tra l'altro questa donna era anche bellissima vedremo con le nostre scienziate invisibili che questa è una caratteristica non troppo rara anche nelle scienziate cioè spesso l'intelligenza è diciamo accoppiata con la bellezza sicuramente nel caso di Pazia io ne ho già parlato in altre dirette di Pazia comunque vi racconto brevemente poi se avete domande ovviamente grazie Loredana grazie Mario se avete anche domande insomma fatele poi pian piano ogni tanto mi giro e guardo dunque Pazia ricordo era nativa di Alessandria di Alessandria di Egitto dove si si trovava la magnifica biblioteca alessandrina che era in assoluto il posto dove venivano custoditi il maggior numero di di libri e di rotoli che parlavano delle sapienze antiche e infatti ogni dominazione che poi se succedette diciamo diciamo dai romani in avanti cercarono sempre di distruggere questa biblioteca questa biblioteca di Alessandria fu distrutta varie volte fu data le fiamme il primo a fare questo scempio fu Giulio Cesare durante il periodo di Pazia siamo nel 300 erotti dopo Cristo quindi il terzo quarto secolo dopo Cristo e Pazia era figlia di un matematico che aveva già una sua scuola molto ben avviata ma quando questa ragazza questa giovane donna cominciò a prendere il posto del padre la scuola aumentò moltissimo era seguita da tutti perché era capace davvero di spaziare attraverso le scienze soprattutto l'astronomia era una grande astronoma calcolò le ellissi dei pianeti capì che i pianeti non erano non avevano un'orbita circolare bensì ellittica calcolò gli equinozi i sostizi calcolò perfettamente l'asse terrestre e ebbe capacità anche altissime filosofiche storiche e quindi diciamo la sua tra l'altro pare che fosse anche bravissima nell'eloquio quindi aveva una parlata estremamente fluida estremamente colta ed era anche bellissima quindi questa donna era famosissima cosa succede succede purtroppo che in quel periodo cominciano le persecuzioni dei cristiani dei cristiani diciamo agguerriti contro i pagani i pazzi ovviamente era una pagana e quindi fu presa di mira e con gli editti teodosiani fu bandita qualsiasi persona che propagandasse l'antica conoscenza umana cioè l'antica conoscenza classica e tutto andò perduto proprio in quel tempo lì i pazzi a stessa subì un gravissimo attacco alla sua persona fu stuprata e portata in piazza se viziata di fronte a tutti gli furono strappati gli occhi che era ancora viva fu portata al tempio e fu tagliata a pezzi e le sue carni furono bruciate sono stata così come dire precisa nella suo supplizio per farvi capire la violenza con cui i primi cristiani trattarono i pagani e uccidendo quindi nelle persone colte tutto quel sapere che l'umanità era venuta era venuta a conoscenza fino ad allora e che andò praticamente perduto di nuovo perché Teodosio obbligò i suoi scagnozzi diciamo a bruciare per l'ennesima volta la biblioteca di Alessandria anche il Serapeo che era una succursale della biblioteca e che conteneva anche lì preziosissimi libri preziosissimi papiri e quindi per l'ennesima volta l'umanità fu costretta a ricominciare da capo da zero senza più nel giro di pochissime generazioni stiamo parlando del quinto sesto secolo dopo Cristo senza più avere praticamente ricordo delle antiche conoscenze che erano estremamente raffinate ed estremamente elevate ecco vena vedo che fate solo di buonasera quindi buonasera anche a voi e quindi cominciamo la triste storia perché dopo la diciamo l'epoca classica di donne che si sono affacciate e hanno trovato il sistema di essere ricordate nella lunga storia di guerre di saccheggi di barbarie di violenze inaudite che seguirono le prime diciamo i secoli dal quinto fino all'anno mille per 500 anni l'Europa fu attraversata da orde di unni di barbari di visigoti e quindi tutto il sapere antico di così alta conoscenza andò tutto quasi tutto perduto chi rimaneva a custode di questo sapere pochissime donne le cosiddette risottomai quelle che conoscevano le erbe quelle che si nascosero nelle caverne e mantenero diciamo viva quella conoscenza in modo orale chi ha letto i miei libri sa che io sostengo la tesi che molte di quelle conoscenze furono purtroppo raccontate ai bambini furono raccontate ai giovani perché perché le donne speravano che raccontando delle antiche conoscenze qualcuno alla fine potesse di nuovo ripristinare quel mondo antico che era sicuramente migliore di quello che vivevano in quei terribili secoli per arrivare io faccio salto salto interi secoli perché le donne non sono mai state ricordate come scienziate infatti non a caso le ho definito invisibili perché sono davvero pochissime saltiamo circa cinque secoli e arriviamo in Germania alla famosa il de garda di bingen allora il de garda anche riguardo il piede di maddalena è stato tagliato beh su maddalena dunque maddalena era una figura mitica e sicuramente anche se io sono assolutamente convinta dell'esistenza fisica sia di cristo che di maddalena ma non era una scienziata era una mistica scienziata il de garda di bingen era sia mistica che scienziata cioè questa donna incredibilmente intelligente nasce alla fine dell'anno 1000 nel 1090 e rotti e visse praticamente l'anno 1100 diciamo quel secolo lì veramente la vide protagonista perché perché lei si dedicò a una vocazione religiosa e divenne di fatti badessa addirittura fondò due 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 grandissimi conventi e poi ebbe era versata in tutto sapeva la musica il de garda di bingen fu una delle prime che cercò di scrivere musica quindi abbiamo alcune suoi tentativi in questo senso fu una scienziata una botanica era famosissima per i suoi decotti per le sue pozioni per le medicine per tutto per le sue cure molte donne scienziate diciamo vedremo quanto si occuparono sempre di medicina perché perché la donna ha in sé nel suo animo la cura già la cura dei bambini per forza che sono comunque esseri deboli e poi la cura degli anziani quindi l'atteggiamento diciamo femminile è un atteggiamento che spesso presuppone appunto la cura dei malati e il de garda fu una ottima diciamo un'ottima strega nel senso che scrisse molte ricette molte pozioni ancora dei suoi manuali sono ancora letti per preparare tutti i suoi decotti eccetera e pensate che era una grande fisica e una grande matematica e una grandissima teologa riuscì ad andare a parlare a vescovi a ministri con una tranquillità che le veniva dall'essere veramente uno spirito elevato era addirittura anche una linguista creò pensate un po' una lingua sua con la quale lei comunicava i segreti che chiamò la lingua ignota e questa lingua la creò lei anche la scrittura quindi fece un po' quello che Tolkien poi fece col Signore degli Anelli creò un suo codice un suo codice misterioso e quindi molte cose anche di Il de Garda non sono molto comprensibili proprio perché le scrisse in questa strana lingua Luciana dice il piede della Maddalena rivestito d'oro sì ripeto la Maddalena non era una scienziata quindi non è pertinente all'argomento che stiamo trattando stasera comunque che fosse una grandissima mistica è in dubbio dunque abbiamo detto il de Garda il de Garda come un faro di sapienza illumina tutto il Medioevo ma ahimè per arrivare a un'altra scienziata qui vi prego di fare attenzione all'enorme numero di secoli che passano tra il de Garda e la prima donna di nuovo che potremmo definire scienziata che è della fine del Seicento quindi passano cinquecento anni di assoluta lotta contro il sapere femminile sono gli anni dell'inquisizione sono gli anni della caccia alle streghe come abbiamo già spiegato varie volte le streghe non erano altro che queste scienziate che queste donne di medicina che queste donne cosiddette magiche ma in realtà era perché conoscevano le leggi fisiche le leggi della matematica e sapevano sapevano contare le stagioni sapevano delle lunazioni conoscevano l'astronomia conoscevano l'astrologia quindi erano donne sapienti queste donne furono massacrate per quattro secoli di fila quindi questo sapere è andato totalmente perso in realtà fu rubato più che perso perché fu rubato da chi da chi le condannava ovvero dai dai sacerdoti inquisitori dai famosi inquisitori che prima di bruciarle vive diciamo scrivevano nei loro libroni le conoscenze storte a queste donne sapienti quindi le torturavano affinché queste donne rivelassero tutto il loro sapere quando poi finalmente tutto il sapere fu rivelato finì la caccia alle streghe di tutto questo disastro vi ripeto sempre è come se fosse che la mano destra lega dietro la schiena la mano sinistra e vuole lavorare da sola e quindi l'umanità è impedita a riuscire a fare cose belle con una mano sola è molto difficile dobbiamo fare un salto di ben 500 anni e arrivare da una donna molto 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 strana molto strana questa donna era una in Germania di nuovo come il de Garda ed era la famosa si chiamava Maria Sibyl Merinden lei era una entomologa cioè lei praticamente studiava gli insetti studiava prima gli insetti era anche una bravissima pittrice quindi non solo studiava gli insetti ma li disegnava e pensate un po' con sua figlia quindi un'altra donna con sua figlia femmina fece un viaggio così lungo da arrivare in Sud America e lì trovò insetti talmente diversi talmente incredibili talmente strani che quando tornò in Europa pubblicò questo famoso libro tutto illustrato illustrato a mano pensate che valore enorme poteva avere in cui descrive proprio come una scienziata come una vera naturista come una persona una biologa di grande talento descrive tutto questo questo strano mondo degli insetti e le prime conoscenze proprio che abbiamo di questo mondo lo dobbiamo a lei quindi la Merlin è una delle prime donne forse la prima entomologa che lascia qualcosa di scritto anzi di disegnato e poi dobbiamo arrivare all'illuminismo siamo agli inizi del settecento alle fine del settecento metà settecento diciamo e con l'illuminismo il re sole vi ricordate il personaggio del re sole l'età semoa apremuale deluge no il re sole crea quella magnifica reggia ancora oggi si può visitare che è Versailles a Versailles il re sole raduna tutta la sua corte composta da migliaia di persone tutta la sua corte i cortigiani vivono una vita beata rispetto alla povertà che poi dopo la povertà di tutto il resto della Francia che poi porterà poco tempo dopo circa sessant'anni dopo una rivoluzione catastrofica enorme la famosa rivoluzione francese ma qui ancora non siamo a quei tempi siamo nel periodo dell'illuminismo in cui finalmente la dea ragione prende piede rispetto alle antiche credenze che avevano portato così tanta violenza verso le donne e in questo ambiente dorato in questo ambiente meraviglioso nasce una bambina figlia appunto di uno di un di un cortigiano del a Versailles e lei fu e si chiamava Emily e sposò giovanissima era molto bella anche lei molto bella e sposò un nobile un barone che si chiamava Duchalet e quindi è ricordata come Emily Duchalet l'Emilie Duchalet però è una donna che ebbe la fortuna di stare a Versailles quindi di avere a disposizione tutte le biblioteche reali e non solo ma anche i pedagoghi che diciamo bazzicavano nella corte lei si rivelò fin da piccolissima estremamente dotata per la matematica divenne una grandissima matematica e scrisse dei trattati ovviamente siccome era anche una bellissima donna fu molto dileggiata perché non si poteva credere che una donna così bella potesse anche essere così intelligente comunque lei non solo fu intelligente dal punto di vista matematico ma ebbe anche una vita molto avventurosa perché la sua intelligenza era prorompente per cui si stufò presto del marito un po' noioso un po' così poco poco intelligente e frequentò i grandi salotti dell'epoca ovviamente lei era in grado di stare al passo con tutti i più grandi geni che in quel momento la Francia poteva annoverare tra cui Voltaire divenne l'amante di Voltaire e con lui scrisse molti libri ebbe una vita estremamente avventurosa e lei ebbe anche la fortuna di frequentare di sentire Newton di avere contezza di tutte le teorie newtoniane di Leibniz e lei scrisse dei libelli dei fascicoli dei piccoli libri a favore appunto di questi matematici dimostrando e aggiungendo delle parti importanti costruendo quindi un corpus matematicus molto importante per l'epoca quando lei morì Voltaire disse che era morta metà della sua anima lei morì di parto perché non dobbiamo dimenticare che le donne scienziate erano anche donne e quindi spesso purtroppo vedremo anche in altri casi proprio l'essere donna l'essere mamma l'essere sottoposta a parti poi nell'epoca estremamente pericolosi spesso ha creato ha portato alla morte di queste donne la de chalet era però la de chalet è anche molto importante perché ebbe una una cattedra honoris causa diciamo che fu data da un'altra donna questa volta italiana la famosa dottoressa Laura Bassi questa è una donna importantissima perché è la prima università che concede quella di Bologna intendo l'università di Bologna concede a Laura Bassi la prima cattedra gliela darà per filosofia ma poi siccome il marito Varatti era un fisico lei studia fisica diventa più brava del marito e praticamente tiene nei suoi salotti ora che sia ben chiaro che tutte queste donne erano donne aristocrate non è dato in questa epoca così oscura alle persone diciamo di medio ceto addirittura di poter accedere già grazie che alcune pochissime di queste nobile donne dotate di particolare intelligenza si dedichino alla scienza quindi Laura Bassi è a Bologna a Bologna ottiene ottiene la cattedra ottiene addirittura mille lire che era uno stipendio cosa eccezionale per una donna perché nessuna donna veniva retribuita per il proprio sapere Laura Bassi invita Emilie de Chalet come matematica quindi tra le due donne una da Bologna una a Parigi a Versailles intercorre questo carteggio e anche questa offerta diciamo che fu fatta vabbè sempre onoris causa anche questa ma comunque la cattedale fu data alla De Chalet Laura Bassi è la prima donna che ha la fortuna di poter accedere a un'università ma non è la prima donna scienziata di Bologna vedremo che Bologna Bologna la saggia ancora adesso è considerata tra l'altro la più antica università del mondo è comunque quella nata a Bologna e Bologna vanta anche delle donne scienziate eccezionali e vi ricordo che siamo nel periodo siamo alla fine del Settecento quindi siamo in piena epoca illuminista in piena epoca in cui la scienza diventa la regina la regina di tutte le discipline e abbiamo Maria Gaetana Agnesi Maria Gaetana Agnesi è sempre bolognese più o meno contemporanea di Laura Bassi però ha una personalità totalmente diversa da quella di Laura Bassi pur essendo estremamente dotata per la matematica lei da giovanissima scrive un libro un libro di testo un libro di testo di matematica ad uso dei fanciulli italici ed era proprio sulla matematica profonda cioè fa un testo a livello universitario lei però è colta da un come dire una vocazione religiosa per cui non si fa suora però diciamo si dedica molto alle opere pie e si dedica molto a fare del bene e si mette anche in contatto con il conte la contesta tribulzio bel gioioso ne ho parlato anche di questa donna e crea l'ospedale l'ospedale di Milano e quindi si dedica molto agli altri tralasciando un po' lo studio ma che non significa che lei non fosse comunque una donna estremamente ben molto intelligente e molto capace nelle matematiche matematica e fisica perché l'Agnesi fa anche fisica poi vediamo siamo alla fine del settecento e succede una cosa molto grave alla fine del settecento per chi ha studiato storia lo sa alla fine del settecento in Francia scoppia una enorme rivoluzione siamo nel 1789 e un'altra donna francese passa le onori della storia per proprio per essere stata una delle donne più intelligenti della sua epoca ed essere stata la prima a frequentare il la scuola Politecnique cioè il Politecnico di Parigi bene questa donna è sapete cosa ha fatto si è vestita da uomo ha preso un nome da uomo un tale Antoine Auguste Leblanc e con diciamo non facendosi vedere nella facoltà ma mandando solo i suoi scritti fu promosso a pieni voti perché perché diciamo i suoi professori credevano fosse un maschio lei si chiamava Marie-Sophie Germaine mi sono dimenticata di dirlo Marie-Sophie Germaine è il suo nome reale ma lei si faceva chiamare Antoine Auguste Leblanc e con questo pseudonimo è un po' come la George Sand anche lei francese sapete la storia della George Sand però oggi non ne possiamo parlare di George Sand perché è una scrittrice mentre oggi dobbiamo parlare di scienziate no? quindi la Germaine la Germaine la Marie-Sophie Germaine si finge uomo e praticamente diventa il più bravo di tutti gli allievi del Politecnico quando poi verrà rivelata la sua identità per fortuna non verrà come sarebbe successo cosomai nei secoli precedenti non verrà diciamo martoriata o uccisa bensì le verrà anche dato un riconoscimento per cui lei ebbe comunque una vita abbastanza serena proprio perché fu diciamo visse in un'epoca più illuminata rispetto alle sue sorelle di sangue diciamo che ebbero invece una vita estremamente più difficile bene ora vi voglio chiedere se avete delle domande no vedo che nulla nulla vi vi fa nessun sollecito a domande va bene allora proseguiamo siamo arrivati alla rivoluzione francese la rivoluzione francese fu una grande speranza per tutta l'Europa si pensava che da quel momento in avanti tutta l'umanità sarebbe migliorata che tutto sarebbe andato a posto e che libertà fraternità galità in realtà poi con la guerra napoleonica e con tutte le nuove dominazioni ricordo che è sempre il potere che non vuole il sapere ovvero se ne appropria e ne fa uno strumento di potere e nel momento in cui il sapere diventa uno strumento di potere diventa spaventoso il sapere dovrebbe rimanere neutro non dovrebbe mai prendere le armi né mai essere imposto dall'alto invece purtroppo anche le scuole di per sé sono forme gerarchiche sono forme anche le università sono forme gerarchiche in cui il sapere viene strumentalizzato al fine del potere di potere chi più sa governa chi non sa e questa è la tragedia umana che ci portiamo dietro da millenni questa cosa non l'abbiamo ancora risolta anzi adesso siamo in un altro periodo di oscurantismo ebbene siamo quindi arrivati all'ottocento l'ottocento è il secolo in cui qualche donna ma siamo già alla fine dell'ottocento qualche donna comincia a rivendicare la propria intelligenza e comincia a rivendicarla come facendo diciamo prendendo il posto degli uomini cercando di arrivare laddove arrivavano gli uomini e questa è la la storia di un'altra donna scienziata molto 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 famosa ma no non molto famosa il marito era molto famoso il marito era niente po' di meno che Albert Einstein e lei era la Mileva Maric la storia della Mileva Maric è quanto mai triste lei nasce in Serbia quindi già un paese non troppo ricco e però l'intelligenza di questa bambina colpisce i genitori e decidono di tratto nasce in una famiglia piuttosto povera per cui veramente i genitori fanno i salti mortali per poterla mandare in Svizzera all'università e lei appunto sceglie matematica e dove lì proprio a Zurigo incontrerà Albert Einstein questo incontro fu fatale per entrambi per stava cominciando ad avere le sue idee rivoluzionarie e la capacità matematica della moglie pare perché poi dopo su questo ci sono molti romanzi ma nessuna certezza pare che questa donna non solo aiutasse il marito nei calcoli ma addirittura l'aiutò a fare la quadra diciamo a rendere matematicamente inoppugnabile la teoria quantistica ipotizzata da Einstein e questo quando però Einstein andò a pubblicare tutte queste rivoluzionari idee eccetera supportate da tutti i calcoli della moglie pare che lui non la mise neanche nei ringraziamenti e da lì cominciò a incrinarsi la vita di coppia tra l'altro era funestata anche dalla presenza di un figlio malato uno dei due figli di Einstein avuto dalla Mileva il più piccolo Edward era schizofrenico fu aiutato da Freud tutti questi grandi nomi vedete si incrociano perché la sapienza non ha barriere il sapere è sempre universale e quindi le persone sapienti si incontrano anche se le discipline sono completamente diverse quindi la Mileva la Mileva ebbe una triste vita proprio perché Einstein si invaghì di una sua cugina che era molto più bella la Mileva era anche un po' claudicante aveva dei difetti fisici che davano anche dolore per cui non era sicuramente bella per cui Einstein quando cominciò ad avere successo la lasciò e si innamorò di sua cugina che era bionda alta eccetera e poi con lei andò negli Stati Uniti lasciando la povera Mileva praticamente sull'astrico anche se lui poi aveva firmato un contratto di divorzio in cui si pensate che cosa strana si prometteva diciamo si obbligava a pagare se mai avesse vinto il premio Nobel a pagare i proventi del premio Nobel di darli a Mileva e ai figli cosa che fece tra l'altro Einstein dunque allora nessuna domanda bene siete tanti e non fate domande allora io interpreto questo fatto proprio perché non se ne sa nulla giustamente non fate domande perché queste cose sono talmente poco conosciute che nessuno ne sa niente quindi che domande può fare in realtà le scienziate invisibili furono davvero davvero invisibili e questo è è stata una tragedia dell'umanità come ho sempre ricordato anche nei miei libri perché l'aver tolto metà della conoscenza umana metà delle capacità umane di poter accedere alla sapienza ha reso l'umanità insapiente ovvero stupida ovvero non cosciente siamo andati a rilento estremamente a rilento e stiamo avendo di nuovo un altro contraccolpo pesante contro i libri contro la scuola contro contro il sapere per cui diciamo leggere la storia serve perché come diceva Gian Battista Vicco i corsi storici esistono pare che l'umanità non impari mai non impari mai ad andare con tutte e due le gambe non impari mai a capire che errore grave sia stato quello di togliere la conoscenza femminile dall'umanità ha tolto metà della capacità cerebrale dell'umanità quindi questo è stato gravissimo certamente che diciamo a fine ottocento nei primi novecento le cose migliorano perché perché le suffragette perché il movimento femminista perché le donne cominciano in massa a rivendicare la volontà di arrivare ai piani alti cioè arrivare alle catede universitarie arrivare ad accedere agli studi superiori e tante donne cominciano a studiare quindi è chiaro che diciamo dalla fine dell'ottocento ai primi del novecento abbiamo molte donne studiose molte donne scienziate io non parlo della madame curie perché perché non è invisibile la madame curie è stata visibile al di là che aveva il nome del marito però era un ottimo uomo un ottimo compagno e soprattutto un grande scienziato anche lui per cui è giusto che venga ricordato comunque anche lui nel nome di lei e quindi non parlo né della Rita Levi Mondalcini della Margherita Huck né di tutte queste donne che sono famose però siamo già ai tempi nostri io voglio parlare e voglio colmare delle lacune nei tempi passati dove queste povere donne venivano uccise se rivendicavano diciamo il diritto allo studio se rivendicavano la voglia di capire le cose e di tevole all'umanità a tutta l'umanità vediamo un pochino altro dunque Pasquale sei basito eh sì e infatti è proprio giusto anch'io sono basita ma purtroppo è così vediamo un pochino altre domande sì 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 Billy è vero ho detto quantistica ma in realtà è della relatività giustamente una correzione ho detto quantistica no sulla teoria della relatività ovviamente sì era Planck che faceva la teoria quantica comunque insomma le due cose poi sono abbastanza unite sì ok vediamo un'altra cosa sì molta molta amarezza dice Nike sì esatto la storia dovrebbe insegnare sempre invece no infatti però vi voglio dare una chicca che veramente pochissimi conoscono conoscono questa donna questa donna è famosissima perché perché è un'attrice di Hollywood un'attrice di Hollywood che bellissima anche lei che divenne famosa appunto come attrice ma pochissimi sanno che invece era una grande scienziata una grande scienziata questo si chiamava Edi Lamar molti sapranno il nome di Edi Lamar fu la prima donna a fare un film completamente nuda ad apparire in una scena completamente nuda che fece scandalo stiamo parlando degli anni 30 agli anni 40 Edi Lamar era un'austriaca scappò dall'Austria quando capì che Hitler stava facendo quello che poi purtroppo avrebbe fatto scappò negli Stati Uniti e siccome era molto bella fu presa ad Hollywood eccetera ma la sua paura del diciamo della catastrofe che stava arrivando che lei percepì di tutte queste tecnologie avanzatissime che Hitler possedeva la fece mettere diciamo in moto la sua genialità e insieme a un altro fisico creò pensate un po' la la forma radar praticamente i radar cioè quelli che le forme diciamo di trasporto dell'informazione wireless cioè senza contatto del filo senza filo no? quindi fu lei a collaborare con degli scienziati e fu lei a inventare praticamente perché? perché aveva paura dei siluri dei siluri dei dei sottomarini tedeschi che temeva arrivassero fino sulle coste degli Stati Uniti cosa che appunto era temuto per cui lei inventò questa specie di capacità diciamo di di trasmissione senza fili pensate che il suo nome è ricordato dell'Inventors Hall of Fame cioè proprio è ricordato come scienziata quindi pensate un po' che storia strana no? questa di Lamar è comunque una scienziata invisibile anche perché era molto visibile come attrice ma si seppe dopo la sua morte tutto quello che aveva fatto durante la guerra quindi questa è una storia anche particolare un po' strana interessante penso almeno spero devo a mia madre elevare il livello culturale delle figlie ne riconosceva il valore grazie la mamma sì allora dopo Edi Lamar che ripeto era famosissima per altro però non per questo dobbiamo ricordare altre donne altre donne anche negli Stati Uniti sono donne che hanno lavorato queste addirittura erano donne di colore c'è stato fatto un bellissimo film ultimamente il diritto di contare questo è un film che è stato fatto 3, 4, 5 anni fa non mi ricordo ma non tanto tempo fa il diritto di contare è un film bellissimo quindi vi invito a guardarlo e racconta la storia vera di queste tre donne di colore negli Stati Uniti che erano talmente brave che erano delle calcolatrici proprio di contare quindi c'è il doppio senso erano delle matematiche spaventose eccezionali tra cui la più famosa quella di cui si pernia tutto è la famosa Katrin Johnson Katrin Johnson è quella che ha calcolato a mente tutti i calcoli della NASA furono assunte dalla NASA come calcolatrici umane i computer erano proprio ai primordi erano enormi erano ci voleva una stanza intera per contenere tutti tutto quel popò di 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 attrezzature e nessuno li sapeva usare se non appunto la Jackson la Johnson e la Dupre allora la la Vogan la Vogan era la terza donna sempre di colore che lavorò e collaborò alla NASA al progetto NASA quindi queste donne siamo nel 960 quindi non troppissimi anni fa ancora oggi se non ci fosse stato quel film credo che nessuno conoscerebbe questi nomi e comunque ebbero delle gravi difficoltà anche per il colore della pelle quindi avere il fatto di essere donne in più di essere anche di colore davvero pesante per queste povere donne vediamo ancora altre domande Billie Holiday è stata perseguitata per una canzone contro il nazismo sì sì ebbè adesso non voglio la parentesi del razzismo negli Stati Uniti ma Martin Luther King sappiamo la tragedia come è stata come ancora oggi il razzismo in tutto il mondo in realtà perché il razzismo non è solo statunitense togliamoci dall'idea il razzismo è ovunque anche in Italia non è solo sulla pelle anche su tante altre diciamo modi di essere tutto ciò che va leggermente al di fuori della cosiddetta norma della cosiddetta normalità è diciamo perseguito da un da un razzismo quindi il razzismo è ovunque e nessuno di noi ne è esente in questa carrellata mi è venuto in mente che mi sono dimenticata però di una grande di una grande donna chiedo venia perché nella grande carrellata me la sono proprio dimenticata ma lasciandola per ultima le do risalto le do risalto perché se lo merita è la famosa Ada Lovelace inglese figlia di Lord Byron George Gordon Byron il grande poeta ebbe moltissimi figli perché ebbe moltissime amanti ma l'unica che riconobbe dal punto di vista legale fu Ada era una bambina estremamente fragile estremamente cagionevole di salute ma le cure della madre e poi le cure del marito e soprattutto la sua grandissima intelligenza le permise di arrivare fino a un'età morì a 36 anni non è che morì vecchia però diciamo si temeva che potesse morire anche proprio bambina in questi 36 anni la Lovelace fa delle scoperte incredibili le ripetono una grandissima matematica e si mette ovviamente a studiare con degli uomini ed è la prima a ipotizzare per iscritto che ci sarebbero state delle macchine capaci di fare i calcoli quindi inventa in un qualche modo i prodromi di una calcolatrice e addirittura inventa le schede perforate cioè ha l'intuizione che attraverso queste schede perforate che poi verranno ovviamente più di un secolo dopo verranno riprese da olivetti eccetera e poi diventeranno i nostri computer quindi ha un'intuizione geniale e lei fu una delle prime a ipotizzare anche senza averle concretamente realizzate ma solo speculativamente cioè con la speculazione matematica riuscì a intuire che ci sarebbero state addirittura delle intelligenze artificiali cioè in qualche modo aveva ipotizzato l'uso dei computer dei calcolatori almeno ecco dei calcolatori quindi questa è un'altra di quelle donne ovviamente non purtroppo non non conosciute forse conosciute solo per il padre perché aveva con tanti con tanto con tanto genitore però la povera Lovelace muore a 36 anni di cancro all'utero per cui una fine anche molto dolorosa a questo punto io non vedo vostre domande e quindi io a questo punto non so se proseguire con approfondimenti su queste donne di cui vi ho raccontato o se fare una riflessione alla luce di tutte queste conoscenze di questi nomi di queste donne dimenticate di queste donne di cui non sappiamo assolutamente nulla o pochissimo o se ne sappiamo ne sappiamo attraverso gli uomini che hanno amato tipo la Duchalet con Voltaire eccetera o il padre come la Lovelace con Lord Byron queste donne hanno forzato quel muro di cemento armato che gli uomini hanno e hanno alzato nella storia da circa 4.000 anni questo ha impedito alle donne quindi alla mano sinistra di lavorare insieme alla destra ora io mi sento proprio in dovere di fare questa riflessione di farvi fare questa riflessione perché abbiamo perso metà dell'umanità metà dell'intelligenza umana è andata distrutta nei roghi distrutta nelle prigioni distrutta dalle gravidanze forzate ed è stata distrutta dalla dall'appropriazione indebita del sapere femminile si dice sempre che dietro un grande uomo c'è una grande donna e molto spesso è vero ma assolutamente dietro una grande donna non c'è nessuno anzi ci sono solo degli ostacoli questo non è per le donne non c'entrano a favore delle donne non è questo il discorso giusto io non accetto il discorso femminista o lo accetto solo in parte quello che io invece propugno e che secondo me è giusto è l'umanità intera che ne ha uno svantaggio è l'umanità intera che zoppica è l'umanità intera che ha una mano sola e quindi noi andiamo a rilento facciamo un passo avanti e due indietro e questo è anche nei giorni di oggi quindi non è che la voce alle donne serve per le donne la voce alle donne serve per gli uomini e per tutta l'umanità cioè non dobbiamo più accettare che la genialità femminile venga repressa perché è genialità è ricchezza è abbondanza perché dobbiamo sputare sulla ricchezza e sull'abbondanza delle menti umane solo perché nascono con un utero solo perché nascono con una vagina cioè questo è assolutamente stupido è assolutamente negativo e castrante per entrambi i sessi per cui gli uomini intelligenti dovrebbero essere i primi a volere le donne a far studiare le donne e a fare in modo che l'intelligenza femminile vada a favore dell'umanità gli uomini intelligenti devono schierarsi con le donne intelligenti solo gli uomini stupidi vorranno le donne stupide e quindi questa mancata capacità questo blocco che l'umanità ha avuto e che io ho anche analizzato per chi ha letto il libro quando Troi era solo una città vede proprio l'inizio di questo dramma un dramma che non è finito che ancora continua le donne che hanno vinto il premio Nobel sono pochissime quelle che l'hanno vinto non sono conosciute mentre tutti gli uomini sono estremamente famosi e questo è davvero un problema quindi io vi saluto adesso ma in generale la genialità viene gestita dal potere beh allora il genio non si fa gestire dal potere il genio è oltre il potere infatti Einstein scappò per esempio negli Stati Uniti e non si fece vedere da Hitler cioè il potere gestisce una genialità asservita ma il vero genio anche Leonardo scappò cioè i veri geni scappano anche Leonardo che era perseguitato in Italia ovviamente scappò in Francia perché lì ebbe asilo ebbe Dante scappò da Firenze cioè ovunque il genio venga costretto il genio scappa alle donne non è stato concesso lo scappare le hanno imprigionate le hanno bruciate vive le hanno torturate e quindi questo è stato il problema o comunque hanno impedito loro di avere accesso agli studi vi ho raccontato l'altra volta la storia della sorella di Mozart è una storia tragica che era dotata come e più del fratello quindi ci siamo persi un sacco di roba bella un sacco di magnifiche suonate un sacco di genialità di avanzamenti di capacità di vivere meglio perché poi le invenzioni a questo servono e quindi insomma noi dovremmo ricominciare una storia diversa capire gli errori del passato cosa che non facciamo mai prima di tutto perché la storia non viene insegnata o non viene insegnata bene nel senso che vengono insegnate solo le battaglie le guerre solo i diciamo i re i principi e i vari i vari governanti ma non certo non pasaranno dicono i maschietti se dimostriamo il nostro valore come faranno a giustificare i privilegi allora i privilegi non ci dovrebbero essere questo è il punto nessun privilegio tutti azzerati ripartiamo il privilegio maschile è un falso privilegio perché in realtà il povero maschio per avere quei quattro privilegi veramente scusate il termine ma proprio di niente e volevo dire un'altra parola ma l'avete capita per avere quei privilegi lì il maschio è stato costretto a rinunciare all'amore a rinunciare alla bellezza a dover pensare solo alla guerra solo ai soldi solo a sgomitare solo ad arrivare primo una vita orribile gli uomini vivono dieci anni meno delle donne perché hanno questo non è un privilegio è un falso privilegio gli uomini stupidi possono pensare che sia un privilegio ma guardate le cose vi sembra privilegiato un uomo che casomai ha tutti il suo servizio ma non può essere amato solo odiato e temuto tutti i tiranni sic sempre tirannis no disse brutto a Cesare quando lo colpì col suo pugnale è così sempre ai tiranni verranno odiati i capi verranno odiati chi vuole dominare verrà odiato e tutto questo è un privilegio è un privilegio maschile se lo considerate privilegio ancora dobbiamo capire delle cose secondo me questo non è un privilegio questo è un fardello che i maschi che sono stati ingannati più delle donne le donne sono state emarginate le donne sono state bruciate bloccate uccise gli uomini no gli uomini è stato messo sulle spalle un fardello tremendo hanno dovuto portare avanti l'odio hanno dovuto portare avanti la guerra hanno dovuto portare avanti il peso dell'odio della ricriminazione dell'essere sempre primi perché se non sei primo non vali niente è una cosa è una trappola micidiale io ho scritto quel libro alcuni l'avranno letto della trappola invisibile ma veramente ragazzi parlo per i maschi ma leggete questo libro leggete questo libro imparate a non essere più intrappolati basta intrappolare i maschi e pensare che sia un vantaggio per giunta come si dice a Napoli i cornuti e mazziati proprio i maschi sono stati le vittime del patriarcato gli è stato tolto il sentimento devono essere duri devono essere forti devono essere coraggiosi non piangere mai una tristezza assoluta gli è stata tolta la bellezza la capacità di commuoversi la capacità di vivere la gioia avete mai visto un dittatore gioioso no o un capo ufficio gioioso o quelli che devono fare soldi che siano gioiosi no sono tutti vestiti di nero sembrano un funerale vestiti da funerale e perciò non dobbiamo lasciare il potere agli stupidi ed affessi ma allora chi sia stupido o chi sia fesso non lo so dipende dal punto dal punto dove guardi da che punto guardi il mondo come diceva quella canzone perché tutto dipende dal punto di vista se tu parli da un punto di vista patriarcale di dominazione allora il maschio che domina che ha soldi che è capo di qualche cosa capo del governo capo dei ministri capo che è capo allora quello è positivo secondo l'ottica del potere secondo l'ottica della gioia no secondo l'ottica della gioia è un povero un povero Cristo proprio è un povero demente quando noi diciamo che dobbiamo cambiare il mondo non è che dobbiamo cambiare il mondo dobbiamo cambiare il punto di vista il punto di vista sul mondo allora sì che cambieremo anche il mondo ma fino a che il punto di vista è è tutto positivo ciò che domina è tutto positivo ciò che fa coercizione tutto è positivo chi comanda il comandante chi comanda ha ragione ecco fino a che saremo in questa ottica non è data felicità non è data gioia non è dato amore niente niente di tutto ciò è possibile in un'ottica del genere infatti siamo una una umanità triste un'umanità disperata direi sotto molti punti di vista che sta uccidendo anche il pianeta quindi voglio dire non è è solo un punto di vista il problema è cambiare punto di vista ovvero fare vedere altri punti di vista diversi da quelli comuni abbiamo commesso tanti errori li paghiamo ancora oggi certo stiamo pagando molti prezzi molti prezzi stiamo pagando i prezzi dell'arroganza i prezzi i prezzi della dominazione fino a che non capiremo quanto la dominazione sia sbagliata noi pagheremo prezzi e li pagheremo sempre più cari tra l'altro con le tecnologie avanzate che abbiamo adesso diventano veramente io direi pericolosi cioè veramente pericolosi allora concludiamo un po' questa serata se ci sono altre domande ma non ne vedo vorrei finire con una con un'altra donna un'altra donna che ebbe sì una visione diversa che forse noi potremmo anche pensare come ecologica perché l'ecologia l'ecologia è una è una forma strana di scienza che però ebbe come madrina diciamo questa suolo richards che era una donna che si occupò moltissimo della parte ecologica della scienza diciamo adesso chiamare l'ecologia scienza non so se è proprio corretto però siccome è proprio l'ecologia quella che sta preoccupando gravemente il pianeta oggi questa è una donna che visse alla fine dell'ottocento diciamo dalla metà dell'ottocento in avanti negli Stati Uniti e fu la prima a scrivere scrisse 15 libri sull'ecologia ma nessuno nessuno la guardò proprio poverina e le i suoi scritti furono diciamo messi sotto la voce economia domestica ed erano invece i primi libri che denunciavano la scomparsa di alcune specie animali l'inquinamento la difficoltà che l'uomo avrebbe trovato in un futuro non lontano lei lavora alla fine dell'ottocento quindi ancora in tempi non sospetti ha questa intuizione dei disboscamenti delle praterie che diventano brulle dei deserti che avanzano quindi diciamo anche se proprio non come scienziata però comunque come una donna che ebbe delle intuizioni comunque geniali perché vide un futuro che si stava che si stava avvicinando adesso siamo in piena crisi ecologica adesso tra l'altro ultimamente proprio in questo ultimo anno tra mascherine e guanti io non voglio sapere quanti pesci quanti uccelli quanti pinguini quanti balene moriranno a causa di questi inquinamenti tossici che noi stiamo immettendo nei nostri mari nei nostri oceani e quindi quindi niente l'umanità pare non imparare dalla storia e non capire noi continuiamo a dirlo io come donna continuo a scrivere per quanto possa essere poco utile ma spero che qualcuno leggendo libri miei libri di altri di altri personaggi abbia la capacità di interrompere questo diabolico meccanismo noi dobbiamo fermarci non dobbiamo andare avanti perché questa è una strada senza uscita cioè l'uscita è macabra l'uscita è drammatica da questa parte dobbiamo evolvere e quindi l'evoluzione presuppone un sapere e quindi dobbiamo di nuovo tornare sui libri e vedere il mondo da un altro punto di vista cambiando punto di vista cominceremo a poter costruire vite migliori per noi e per il pianeta e potremo usare la nostra intelligenza in modo molto più positivo rispetto a quella che è stato nel passato quindi la carrellata che vi ho fatto di questi nomi che poi rimangono nomi Vox Clamas in deserto rimangono nomi senza una reale connotazione comunque spero vi abbiano fatto sentire quanto l'umanità è stata stupida noi siamo stati veramente totalmente stupidi e pensare che noi ci riteniamo la razza più intelligente del pianeta beh su questo si potrebbe veramente discutere molto quindi io a questo punto è utile scrivi scrive io mi occupo di diffondere grazie Silvana grazie sì bene ce ne fossero di persone che diffondono come te staremo tutti molto meglio quindi io a questo punto vi saluto credo che di aver esaurito tutte tutte le vostre poche domande perché effettivamente questo dimostra quanto fossero davvero invisibili di queste donne proprio nessuno le conosce comunque vi ricordo Eddie Lamar a me il personaggio di Eddie Lamar mi piace troppo cioè questa donna bellissima famosissima piena di uomini estremamente affascinante che crea il sistema wireless contro i sottomarini guardate che è meravigliosa questa storia quindi insomma c'è sempre speranza c'è sempre speranza che qualche Eddie Lamar venga fuori speriamo in bene allora grazie grazie di tutti questi complimenti e niente io vi do appuntamento alla prossima diretta che non so ancora di quale argomento si parlerà ma se avete anche delle così delle curiosità delle suggerimenti così da da portarmi io sarò molto lieta di potervi accontentare per cui scrivetemi scrivetemi su facebook su messenger datemi qualche feedback e ditemi bene c'è poco da domandare perché questo è un problema dell'intera umanità e dell'esistenza e già hai ragione Pasquale è proprio così è un problema dell'intera esistenza però qualcuno che lo dica ci deve essere allora diciamolo continuiamo a dire sotto varie forme sotto varie come dire modi no cerchiamo di sollecitare queste riflessioni perché sono estremamente importanti fino a che noi continueremo a pensare che che quello ricco è quello giusto vedete dove ci portano i ricchi ecco io non voglio dire altro quindi lasciamo stare sempre un piacere raccontare di quanto sia ignorante continua a divulgare queste cose cercherò però io sono sola ho bisogno di voi ho bisogno che voi facciate da cassa di risonanza ho bisogno che voi condividiate questi video che leggiate i libri che diffondiate queste cose perché io da sola posso fare quello che riesco ma voi siete tanti e potete fare quindi molto moltissimo io comunque vi ringrazio dell'attenzione e vi saluto e vi auguro la buonanotte grazie grazie a tutti arrivederci